... Ma restiamo a Venezia per parlare di politica i primi 100 giorni del Presidente Luca Zaia sotto la lente dell'Udc una presa di posizione netta quella del gruppo dell'Unione di Centro in Consiglio regionale secondo cui nessuno degli obiettivi indicati è stato raggiunto Ancora Luca Colombo È il controcanto ai martedì di Luca Zaia con i giornalisti Lui ogni settimana illustra insieme agli assessori l'attività della Giunta regionale Loro hanno fatto uno specchietto inesorabile per colonne Promesse e dichiarazioni del neogovernatore leghista Obiettivi raggiunti, controproposte I consiglieri regionali dell'Udc all'opposizione per conto proprio non gliene lasciano passare mezza Statuto, pronto, entro 100 giorni aveva detto Zaia, non c'è Riduzione delle liste d'attesa Non risulta in merito nessun nuovo piano sanitario Completamento dell'alta velocità ferroviaria Dal governo niente soldi al Veneto Emergenza occupazione non ancora in calendario Quote latte, la questione resta aperta Federalismo fiscale lontano Zaia conciliante sulla manovra del governo mentre altre regioni compresa la Lombardia di Formigoni appaiono ben più combattive Vediamo un Veneto che perderà in due anni 800 milioni di euro e si vedrà costretto a tagliare servizi al sociale le infrastrutture, le piccole e medie imprese alle famiglie Insomma un presidente che è un leone qui a San Marco a Venezia e un agnellino a Roma Questa di Zaia, dice l'Udc, è una fiction una politica di proclami inconcludenti complice una certa informazione L'Udc ha presentato la prima proposta di legge di revisione allo Statuto ha presentato un'ulteriore proposta di legge sulla revisione del patto di stabilità questo vuole essere il nostro modo di essere consiglieri propositivi con rinnovata produttività e con comportamento diverso orientato a risolvere i problemi della nostra regione Grazie 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 a tutti.